Ancora oggi un angolo di questo meraviglioso paese è l'unico posto al mondo dove continui a vivere l'albero dell'incenso il cui gommoso nettare è ancora raccolto con i primitivi sistemi di millenni fa. L'albero viene ferito e si difende emettendo un bianco lattice che ragrumandosi col tempo diventerà fonte di profumo e magia. E' il sud del paese che conserva questo miracolo. Le terre della città di Salala chiamata il tropico dell'Oman per la sua aria dolce e profumata come il suo incenso unico. E il vecchio souk sembra miracolosamente in equilibrio fra storia e leggenda con botteghe e personaggi legate a un mondo di commercio che anche questa volta sembra uscire da uno dei nostri libri di fiabbe. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.